Se vuoi questo che è meno tirerato, c'è qua. Bevi quanto vuoi. Ti vuole biscotti? Eh sì, venissiani. Qui c'è uvette, c'è cioccolata, noci, di tutto. Io c'ho le barrette di cereali, perché ha bisogno di energia pura. Per ripartire. Allo stato puro. E' ricco. E' ricco. Qua è una barretta di cereali? Sì. Per i vostri. No, la metto in YouTube. Dai. No, è come con questo cappellino. In YouTube scrivendo cosa? Metto questo filmato che sto facendo. Eh, ma cosa fai? Fai anche il paese. Eh, fatto sì. Oh, è come. Thank you.